Ancora sangue sulle strade del Sannio, dramma a Limatola dove la scorsa notte ha perso la vita un ragazzo di 16 anni in un incidente avvenuto nel centro del paese. Secondo una prima ricostruzione il giovane era sul sedile posteriore di una mini cooper che nelle vicinanze del comune è finita contro un muro di cemento armato e si è poi ribaltata. Alla guida un 23enne di Limatola e al suo fianco un 15enne. A nulla sono valsi purtroppo i soccorsi per il ragazzo trasportato all'ospedale di Caserta. Meno gravi le conseguenze per gli altri due ricoverati presso i nosocomi di Benevento. Distrutta dal dolore la famiglia del giovane attraverso i social il cordoglio dell'amministrazione comunale del sindaco Domenico Parisi che ha annunciato il lutto cittadino in coincidenza della giornata delle seguie. Sulla tragedia sono state avviate le indagini e domani sarà affidato l'incarico per l'autopsia. Il conducente della macchina è stato indagato proprio in vista dell'esame disposto dalla procura di Santa Maria Capuavetere. E questo pomeriggio a Benevento ancora un incidente e di tre feriti il bilancio dello scontro avvenuto in via Gaetano Rummo tra una Hyundai i10 con a bordo una persona ed uno scooter con due passeggeri. Tutti di Benevento per fortuna hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118 a corse sul posto. Al pari dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi della polizia stradale che ha deviato il traffico da via Rummo verso via Bosco Lucarelli.